Comunque, Mirko di Tora, questo ci trascina via da questi pensieri legati alla rana e ci porta alla velocità dei 50 d'orso. 50 d'orso in cui sarà Mirko di Tora, è una gara in cui tutto, tutto può accadere. Mirko vuole migliorare il suo record italiano, lo ha avvicinato a soli due centesimi se non ricordo male Luca, ma direi di sì. 25,58 il record italiano, 25,60 il tempo che ha notato Arnarson, l'atletta che ogni tanto ritorna, Aquila figlio dell'Aquila, l'islandese da 25,86 di personale stabilito proprio in qualificazione. L'eroe di casa, Nick Drebergen in seconda corsia e quindi il nostro Mirko di Tora. ha dimostrato di non patire l'evento, lui che di fatto è un esordiente su una rivalta internazionale di Vasca Lunga di alto livello, ha già assaggiato la nazionale ma da poco tempo. Poi Guy Barnea, l'atleta che gli sarà accanto, credo 25,43 di personale, possa dire la sua. Florian Lang, lo svizzero da 25,34 e cerca un risultato pieno, sul podio c'è stato, sì, ma solo in staffetta gli piacerebbe trovare un risultato individuale. Aristides Grigoriadis, doveva essere il favorito dolobico, continua ad esserlo per certi versi ma non deve sbagliare come ha fatto in semifinale, dove una cattiva partenza gli ha compromesso la performance. Luibos Krizko, lo slovacco in settima corsia e personale in qualificazione, lo stesso per, non lo stesso per Ashwin, Vildeboer, lo spagnolo da 25,88, 25,5 di personale, Grigoriadis è l'unico in questa finale ad aver nuotato sotto i 25 secondi. Greco peraltro ha dimostrato di essere in buona condizione con un ottimo cento, di sicuro ha portato la preparazione sulla distanza più lunga che olimpica, gara in ogni caso aperta per Mirko, deve prendere una bella partenza, lui non è uno specialista. No, ma non ha paura di niente, questo in una gara attesa come un 50 è già un piccolo elemento di favore. Cuffia argente tra i meno abbronzati, parte alto della vasca, Mirko di Tora per individuarlo. Lo stacco questa volta non è lento, aspettiamo, tira bene l'apnea, esce anche abbastanza bene Mirko di Tora in linea con i migliori Luca, perde qualcosa qua, che velocità, centro vasca è parte alta della vasca, Mirko deve cercare di rientrare, potrebbe anche riuscire, qui non cala mica nessuno, mamma che finale, Mirko fuori dal podio ma il tocco è di Grigoriadis, 25 e 13. Non scende sotto i 25 secondi ma conferma le attese del pronostico, settimo Mirko di Tora a 25 e 66, per cui non riesce a migliorare se stesso, anzi peggiora di 6 centesimi il tempo, patisce qualcosa, non in partenza Luca, forse nell'uscita dalla subacquea, non so. Ma c'è stato un minimo di imprecisione all'attacco delle prime abbracciate, proprio al momento in cui si spacca la superficie, e lì ha perso qualcosa, e poi cosa dire, la gara è stata praticamente identica a quella del semifinale come tempo complessivo, l'arrivo direi è buono, ha dovuto velocizzare leggermente la penultima abbracciata e accorciare l'ultima, però obiettivamente non è mai stato nei tre da medaglia. No, 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 25 e 44 il tempo che valso la medaglia di bronzo a Lubos Krizko per la Slovacchia, 25 e 18 il tempo per l'argento a Florilanga, e poi comunque non scende sotto il personale, né sotto la soglia dei 25 secondi, Aristides Grigoriadis, che però, come dire, non commette lo stesso ruolo della semifinale. Sono due le vittorie greche oggi, questo fa ancora più sensazione di altro spessore, quella di 200 il fino, comunque la conferma di...